salutiamo gli amici della scuola di giornalismo di bari che fra l'altro mi è molto del cuore fanelli il microfono al centro il microfono al centro pier ha visto il film in anteprima io ho fatto l'erasmus a bario che è una domanda così proprio passavamo per caso ti senti mai la? siamo alla prima giornata del festival del giornalismo internazionale di Perugia ci troviamo all'esterno dell'hotel Brufani di Perugia cuore pulsante del festival internazionale del giornalismo giunto alla sua decina giornate meravigliose al festival del giornalismo nella giornata Luigi stavamo parlando parliamo del ciuffo ti piace? abbiamo detto che la lacca non si usa ma lui non ne vuole dire dopo una mezza giornata di lavoro si continua a lavorare si scrivono articoli e si vede la partita salutiamo arrivai il brindisi l'ultimo tango a Parigi l'ultimo pranzo a Perugia che si può anche scalfire grazie a tutti